Certo, perché ogni tanto è così, cioè non sempre per forza tutto deve andare per scontato, quindi è bello quando succede quello che magari uno dice ma può accadere, e se poi accade che bello. Poi noi imparziali italiani fuori dalla Champions, da un bel po' insomma, io ho tipato a Chelsea, dai lo confesso, poi non so voi. No, sapete perché sto parlando di Champions e di calcio? Perché c'è stato lo spettacolo di Marshmello proprio prima della partita, era uno spettacolo spettacolare, molto spettacoloso, e quindi ne ho voluto spettacolarmente parlare questa mattina, nel Day Basque. A proposito di spettacolo, avete visto il pappagallo che c'è al Parco Fattoria Rosario Carini, ma non è uno spettacolo, Cioè, praticamente ti riprodu... Upsì, buongiorno, è il DJ che si incetta, che mi parla. No, stavo dicendo il pappagallo del Parco Fattoria Rosario Carini riproduce le suonerie. Non tutte, non tutte. Però, non ci credevo. Ma si sa, è noto che i pappagalli ripetono, però pensavo che ripetessero le frasi, che ne so. Ma gli dici, ciao, ciao. E lui dice, chi mi sa notte? E poi magari il pappagallo, no? Lui, oltre a salutare tutti quanti, proprio lì all'inizio, diciamo, dell'ingresso, del percorso del Parco Fattoria, Ogni tanto fa anche la sederia del telefonino, da bebe. Comunque, lui e altri animali strani sono al Parco Fattoria Rosario Carini, sì, dove a Castelvetrano, appunto, la strada provinciale 25, direzione Baino Trinità, immersi nel vero.